Ciao, oggi andremo a scoprire il vincitore del contest, buona fortuna! Il vincitore del contest, buona fortuna! E' Joe! Joe, scrivimi qui sotto nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un like e un commento! Se ancora non hai fatto, iscriviti! Ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video! Ciao! Ciao!